Lo spazio di Coworking Toolbox a Torino ha ospitato il Mappathon di Piemonte Visual Contest, pomeriggio dedicato ad approfondire temi e strumenti per candidare un progetto al concorso. L'incontro ha visto la partecipazione di zappatori, geografi, sviluppatori, designer che vogliono sapere cos'è OpenStreetMap, servizio aperto di mappe online e imparare a mappare il territorio in modo partecipativo. OpenStreetMap è come Wikipedia, soltanto che le persone contribuiscono a creare la mappa del mondo, un bene comune, un bene digitale che diventa una cosa disponibile a chiunque ed è questo il punto fondamentale, che possiamo trasferire in formato digitale una conoscenza che c'era quella più vicina possibile e contribuire a migliorarla. Il punto fondamentale per cui serve per tanto OpenStreetMap è quello di creare partecipazione e valorizzare sempre più il territorio attraverso strumenti tecnologici che sembrano difficili ma in realtà gli output sono così semplici da essere capiti da chiunque.